ciao io mi chiamo Swippy e sono un bellissimo pesciolino posso fare tante cose lo sai? posso anche fischiare non mi credi? guarda posso anche chiudere gli occhi posso anche chiudere gli occhi posso anche farti l'occhiolino bene ti racconterò tantissime storielle ma tutto questo alla prossima volta adesso volevo solo presentarmi ciao se ti è piaciuto il video iscriviti al mio canale attiva la campanella e rimani sempre aggiornato ciao